Vi consiglio quattro romanzi, uno per ogni livello. Per il livello A2 vi consiglio Dove mi trovo? di Giun Palahiri. Per il livello B1 vi consiglio Io e te? di Niccolò Ammaniti. Per il livello B2 vi consiglio Trio? di Dacia Maraini. E infine per il livello C1 vi consiglio Una storia semplice di Leonardo Sciascia.